Proseguiamo a parlare di urti elastici, in particolare voglio vedere in questo video, proseguiremo ancora anche nel prossimo video a parlare di urti elastici, in questo video precisamente voglio esaminare alcuni casi notevoli che trovate anche ovviamente nei libri di testo, quindi ve li voglio solo spiegare a parole mie ma sono cose che trovate tranquillamente anche nei libri di testo, non è che io mi sto inventando nulla, lo dico a chi magari mi dice ma stai riproponendo? Certo, non me la invento io la fisica. Abbiamo detto, si è visto nel video precedente nel quale abbiamo iniziato a parlare di urti elastici, come assegnate due palline, due punti materiali di masse rispettivamente m1 ed m2, quindi dati assegnati, e a 20 velocità iniziali, siamo indicate v1 e v2, vettoriali piccole, abbiamo visto che qualora queste due masse si urtassero, qualora avvenisse fra queste due masse un urto elastico centrale, vuol dire diretto lungo la congiungente rispettificente di massa, quindi lungo un unico asse, perché abbiamo visto come se noi andassimo in termini vettoriali a scrivere due equazioni, abbiamo visto che l'urto elastico è l'unico urto nel quale si conserva la qualità di moto e anche l'energia meccanica barra cinetica sarebbe del sistema, ma abbiamo visto che nello spazio è nel piano, quindi in 3D e in 2D ci sono un numero di equazioni che si differenzia dal numero di incogni, quindi non è risolvibile, questo tipo di problema lo possiamo risolvere mediante la rappresentazione di due equazioni scalare, una che rappresenta la conservazione della qualità di moto, l'altra che rappresenta la conservazione dell'energia cinetica prima dell'urto e dopo l'urto, due equazioni scalari che appunto ci forniranno che cosa? Le velocità che abbiamo indicato con, quindi a quel punto le due V1 e V2 piccole si trasformano in forma scalare perché sono proiettate lungo un unico asse, le due incognite che sono le velocità V1 grande e V2 grande di due corpi, delle due palline, dei due punti materiali appena dopo l'urto, sono ottenibili, l'abbiamo visto, ci siamo formati un sistema inizialmente non lineare che abbiamo risolto con degli artifici di tipo algebrico molto facili e siamo arrivati alla seguente espressione nella quale abbiamo visto come V1 fosse pari a M1 meno M2 che moltiplica V1, V1 piccolo, più due volte M2 V2 fratto la somma M1 più M2, spero di non essermi sbagliato, vediamo se non mi sono sbagliato, non credo, no non mi sono sbagliato e abbiamo visto come invece V2 fosse pari a due volte M1 V1 più questa volta M2 meno M1 V2, ovviamente V1 e V2 sono V piccole perché sono velocità iniziali, fratto la solita somma fra le masse, no? Espressione che abbiamo anche visto scritta in questo modo, ovvero M1 meno M2 diviso M1 più M2 tutto per V1 più 2 volte M2 fratto M1 più M2 tutto per V2 e tra l'altro è la stessa cosa scritta in maniera più compatta, magari ci potrà servire e tra l'altro vi dicevo, questa è un'espressione che trovate appunto nei testi tra cui il testo dei dottori Mazzol di Nigro Voci che ci butta lì questa formula diciamo senza troppi complimenti, insomma non giustificandoci i passaggi, però ecco se uno si ricorda è abbastanza diciamo agevole da ricordarsi questa formula, se me la ricordo io se la può ricordare anche diciamo questa lavagna ecco davanti e questa appunto sono le due espressioni vogliamo vedere, vogliamo esaminare i videopedi, vi dicevo ho perso un po' di tempo per fare un po' di ripasso con quello che abbiamo visto in precedenza, ma lo trovate nel video se cliccate, se siete in upper list trovate nel video precedente, altrimenti cercate il video numerato con il numero inferiore di unità rispetto a questo, ad ogni modo supponiamo di avere un caso, diciamo un primo caso, nel quale ad esempio le masse sono le stesse cioè un caso di questo tipo voglio dire, abbiamo, dunque all'inizio, cioè prima dell'urto abbiamo queste due palline, eccole qui, che si muovono appunto con v con 1 e v con 2, no? ecco, si urtano, bene questa è la fase iniziale 1, la fase iniziale 2 e la fase subito dopo l'urto bene, subito dopo l'urto siamo di nuovo qui, le palline si sono urtate, l'urto è elastico ovviamente rimbalzano, e vediamo che velocità hanno queste due, ovviamente queste due sono sempre M1 ed M2, allora cosa si può fare? Basta provare a porre, siamo nel primo caso in cui appunto M1 ed M2 sono M, cioè, questo è il caso più semplice di tutti, nel caso in cui appunto l'urto elastico centrale avviene fra corpi aventi stessa massa, bene, cosa facciamo? beh, andiamo a buttarlo lì, notiamo che se M1 uguale M2, qui se ne va questo primo addendo, e qui se ne va questo secondo addendo, tra l'altro se M1 uguale M2, questo è un 2M e questo è un 2M, questo è un 2M e questo è un 2M, quindi M1 se ne vanno, guardate che cosa si ottiene, se M1 uguale M2 uguale M, quindi se l'urto elastico centrale avviene, ripeto centrale, perché stiamo parlando di urti elastici centrali, avviene fra corpi di stessa massa, tra punti materiali aventi stessa massa, si trova che la velocità finale subito dopo l'urto V1 è pari proprio, guardate che cosa, è pari a V2, così come la velocità finale V2 è pari a V1, cioè vuol dire che se i corpi hanno la stessa massa e le velocità dopo l'urto si invertono, vedete che questa sarà, questa qua sarà V1 e questa sarà V2, si sono invertite proprio le due velocità e questo è un fatto molto interessante, un altro caso notevole è quello in cui si può supporre che il corpo avente massa M2, quindi parlo della seconda pallina, sia inizialmente inquieta e sia ferma, no? E vedremo poi un caso particolare che è un caso del gioco del biliardo, allora teniamo sempre qui le formule, quindi questo abbiamo visto il primo caso, denominiamolo come caso A, caso delle masse uguali, lo rivedremo questo caso, però prima facciamo il caso generale in cui è solamente nulla, in caso come abbiamo detto abbiamo le due masse, ma la seconda massa sta ferma, inizialmente inquieta, quindi questa non ha velocità V2, ma solamente c'è V1, cosa vuol dire? Beh, vuol dire che V2 è 0 con V1 che è V1, cosa vuol dire? Beh, andiamo a mettere in queste due equazioni il V2 uguale 0, vedete che succede? Succede che questa volta sparisce il secondo addendo della prima equazione e sparisce il secondo addendo della seconda equazione, cosa succede? Beh, succede che V1 è pari a solamente M1 meno M2 fratto M1 più M2 per V1, velocità iniziale, e poi invece la velocità V2 dopo l'urto, posseduta dalla pallina che stava ferma, che non aveva la velocità iniziale, e invece due volte M1 fratto M1 più M2, ovviamente sempre per V1, dunque, e su questo ovviamente questo va bene, ma in particolare, da qui si dipartono alcune altre casistiche, perché qualora M1 e M2 fossero uguali, cioè qualora avessimo il primo corpo che si muove con la velocità V1 iniziale prima dell'urto, e prima dell'urto la massa M2 non avesse velocità, quindi fosse ferma, se i due corpi poi hanno la stessa massa, pesano uguale, hanno M1 uguale M2 uguale M, quindi caso B1 chiamiamolo, quindi M1 uguale M2 uguale M, vi faccio notare come, che succede? Guardate, succede questo, succede che V1 è 0, vedete? Perché è V2, guardate chi è, è proprio V1, cioè quello che succede è che se le masse sono le stesse e M2 è ferma e M1 si muove, dopo l'urto succede una cosa al contrario, cioè vuol dire che si ferma, per quello che succede è che la massa, la pallina urtante, cioè quella di massa M1, si ferma, la pallina urtata, cioè quella che viene colpita, quella cioè di massa M2, avrà una velocità dopo l'urto coincidente con la velocità iniziale della pallina di massa M1, sembra un po', no? Vedete? Non solo, ma ce ne sono altri due di casi interessanti, con questi li concludiamo, B2 e B3, sapete quale può essere? Il primo è il caso, dunque questo qui è il caso proprio assimilabile al biliardo, no? Con la stecca io lancio la, colpisco la prima pallina, che ha una certa velocità V1, e quando questa pallina va a impattare con un'altra palla da biliardo che è ferma, di massa M2, e le due palline da biliardo sono uguali, hanno la stessa massa, no? Succede che effettivamente quella palla che ha colpito si ferma e quell'altra che è stata colpita prosegue, vedete? E prosegue praticamente con la velocità che aveva inizialmente la palla, la palla con che avevo, diciamo, lanciato con la stecca, che avevo portato a colpire la seconda palla con la mia stecca, no? Non so se è chiaro il discorso. Oh, queste due sono interessanti, perché questa è il caso in cui, guardate, M2 è molto maggiore di M1. A cosa l'assimiliamo questo esempio? Questo esempio può essere l'esempio di un lancio, non lo so, allora, me ne vengono in mente due, uno di una pallina verso, una pallina su un pavimento che rimbalza, o anche una pallina che viene lanciata verso una parete di gomma elastica, stessa cosa, o in orizzontale o in verticale, cambia niente. Perché si suppone, quando dico M2 è molto maggiore di M1, si suppone che la massa del pavimento su cui cade la pallina, dove poi rimbalza, oppure la parete di gomma abbiano masse elevate, quindi infinite, come se fossero, no? E quindi, guardate un attimo, che cosa succede qua? Beh, questo è interessante, perché, che cosa succede? Ovviamente siamo sempre nell'ipotesi, oh, guardate un po', guardate che succede. È interessante che se M2 è maggiore di, ovviamente nel caso B2, abbiamo sempre il caso in cui, anche qui, non l'ho scritto, seconda massa ferma, quindi ovviamente la parete di gomma o il pavimento sta ferma, quindi non si muove e inizialmente inquieta, sapete che vuol dire? Che se M2 è molto maggiore di M1, questa quantità qua, in questa quantità qua, al numeratore prevale, guardate chi prevale, prevale M2 perché è molto maggiore di M1, e così come qui prevale M2, così come qui, vedete, qui abbiamo una tendenza a zero, perché se rimane M2 qua è come se fosse un numero su infinito che fa zero, e qui abbiamo un infinito su infinito che fa, vedete, il rapporto tra coefficienti delle masse M2 che è M1, quindi cosa trovo? Trovo che la velocità della massa M1 subito dopo l'urto, chi è? In pratica c'è un'inversazione, vedete? Sì perché, beh, è evidente, no? Io tiro, una pallina arriva alla parete di gomma, rimbalzo e torno indietro, con la stessa velocità, però ovviamente che si inverte, no? E ovviamente è chiaro che la velocità dopo l'urto della parete di gomma o del pavimento sarà zero. E invece qual è il caso B3? Beh, il caso B3 è il contrario, questa volta è M1 molto maggiore di M2, e quale può essere il caso? È il caso del gioco delle bocce, no? Non è un gioco per giovani, è un gioco un po' per centroanziani, però comunque avete mai giocato a bocce? E qui? Allora, questo M2 è un boccino, il boccino, e M1 è la boccia grande, no? Sono due masse differenti, questa è molto maggiore, e qui accade il contrario, perché qui, lo scrivo qua, ovviamente, il boccino è fermo, quindi sempre l'ipotesi che la velocità iniziale, che il secondo corpo, la seconda massa, questa volta più piccola rispetto alla seconda massa, sia ferma, sia inquieto, no? Quindi non ci sono queste due, è chiaro che vedete che qui, cosa succede? Che V1, anche qui, se M1 è molto maggiore di M2, è chiaro che al numeratore prevale M1 su M2, prevale M1 su M2, quindi è un rapporto tra M1 e M1, che si semplificano, quindi si trova come la velocità finale, subito dopo l'urto, della boccia grande, della massa grande, è uguale, perché in pratica, se ci pensate bene, se tirate la boccia e prendete il boccino, la boccia grande prosegue nel suo moto, nella sua qualità di moto uguale, perché comunque è la stessa, mentre invece, guardate, quello che succede alla massa, al boccino, la velocità del boccino dopo l'urto, chi sarà? Beh, sarà interessante questo, guardate, è proprio raddoppia, più veloce, due volte la velocità iniziale della boccia grande, vedete? In pratica si trova come la massa M2 più piccola ha una velocità che è doppia rispetto a quella iniziale, che è quella con cui prosegue poi il corpo di massa superiore, il boccione, no? Questo è interessante vedere, questo tipo di configurazioni, di casi notevoli che proprio riguardano l'urto elastico. non perdetevi, spero che vi abbia interessato questo, ma sono cose che uno poi magari sa e ha applicato nella realtà, ma vederle così, proprio esaminandole con la conoscenza dell'urto elastico è sicuramente molto molto interessante, credo produttivo. Non perdetevi il prossimo video nel quale continuiamo a parlare di urti elastici. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!